Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. In questo video andremo a trattare questo set della Pelican, marchio tedesco molto conosciuto soprattutto anche per le gomme rosse e blu e anche per altri prodotti di cancelleria come le Pelican Stick Super Soft Penne a Sfera che ho già recensito nel mio canale. Andiamo a vedere appunto questo set che comprende il correttore liquido che dopo andremo a vedere meglio Super Pirate, sempre marchio Pelican, la penna sferografica cancellabile appunto con inchiostro cancellabile Blue Royale, qui vedete appunto che ci sono le cartucce e la penna appunto si chiama penna sferografica Grand Prix. Allora andiamo a vedere sul reto la descrizione, penna sferografica cancellabile e ricaricabile. I set sferografica Grand Prix più sferografica più cancellatore Super Pirate più cartucce Blue Royale KM ricaricabile con cartucce Pelican KM con punta incorporata. Questa è una caratteristica molto particolare della penna sferografica che quando si va a cambiare la cartuccia non si cambia solo l'inchiostro ma si cambia proprio la punta che è una punta un po' particolare. Cancellatore o correttore come si vuole dire Super Pirate a due punte, la punta bianca cancella l'inchiostro Blue Royale mentre la punta blu permette di riscrivere una sola volta sulla parte cancellata. infatti c'è scritto una sola volta perché la punta blu del Super Pirate è indelebile. Comunque vedete questo pacchetto, questo pack dice appunto che la Super Pirate è gratis, è gratuita e il pacchetto è green pack, cioè facilmente gettabile nella spazzatura separando la plastica dal cartone, la punta è M mentre il cancellatore, il correttore ha la punta a pennarello ed è una punta Broad, una punta B. Comunque adesso andiamo a tirare fuori questi prodotti e ve li faccio vedere da vicino e poi passiamo alla prova di scrittura e anche al prezzo e il posto dove l'ho comprata. Eccoci qui con i prodotti estratti dalla scatola, dalla confezione, dal blister e vediamo appunto che c'è il tappo con questa clip curva, un tappo abbastanza corto, molto somigliante a quello delle Pelican Stick Super Soft che sono penne a sfera con la scritta Pelican in bianco, è il simbolo appunto del pelicano. Questa è in colorazione azzurra ma ci sono anche varie colorazioni tipo rossa con la parte in gomma antiscivolo bianca, una parte in gomma che qui è nera e che poi si estende per tutta la lunghezza del fusto della penna. Vedete il tipo di punta che è una punta che sembra in fibra ma in realtà è in plastica è appunto una sferetta che è appunto quella che dà il nome alla penna sferografica, cioè è una penna che viene utilizzata soprattutto per insegnare ai bambini a tenere nella maniera corretta la penna. Infatti se si va a scrivere mettendo troppa pressione con la mano sul foglio la penna scrive molto male, scrive leggera, scrive quasi, la punta si, la sferetta si blocca e anche non scorre bene se non si inclina la penna nella giusta maniera. Quindi obbliga il bambino oppure una persona che deve imparare a scrivere ed è alle prime armi a seguire un'impugnatura più corretta possibile in modo che la penna scriva. Io non ho avuto problemi a far uscire l'inchiostro dalla punta e a scrivere tranquillamente perché non ho evidentemente problemi di impostazione della mano sull'impugnatura della penna. vedete che questa è in colorazione azzurra e nera, questa parte è in gomma lievemente zigrinata, una gomma abbastanza, sì non morbidissima, abbastanza dura, resistente. In pratica quando la penna viene estratta dalla sua confezione all'interno non ha nessuna cartuccia. All'interno vedete sulla confezione c'è anche il disegno che il caricamento della penna viene con due cartucce contrapposte, quindi una sul retro con il suo cappuccetto di protezione della punta viene messa al contrario e l'altra invece che va a finire con la punta esterna della penna per scrivere va posta in questa maniera. Quindi una fa da sostegno all'altra in modo che se non ci fosse la cartuccia di ricambio dietro alla cartuccia principale questa slitterebbe all'interno non permettendo di scrivere e la punta rientrerebbe. Quindi caricamento a cartucce contrapposte. Nella confezione delle cartucce ce ne sono cinque made in germany best quality ed è il colore royal blue che è cancellabile appunto con la super pirate che è questo correttore che avevamo già visto nel video delle varie tipologie di penne cancellabili e praticamente questo questo liquido va posto sopra la parte sopra alla parola magari scritta in maniera errata va a rendere trasparente completamente l'inchiostro blue royal di pelican che dovrebbe essere il 4001 se non vado errando e dall'altra parte quando l'inchiostro trasparente che ha cancellato l'inchiostro blu si asciuga potete scrivere con questa penna in fibra con questa punta in fibra però questa diventa permanente e quindi non è possibile più cancellare nuovamente e riscrivere quindi l'errore può essere fatto solo una volta a meno che uno non debba solo cancellare e poi abbiamo queste cartucce che sono particolari perché hanno il piccolo fusticino dove appunto è contenuto l'inchiostro vengono definite delle penne con punta roller vengono con roller tip quindi con punta roller diciamo che sono una versione più antica per così dire anche se non è magari il termine più corretto della penna ro delle penne roller attuali con la possibilità però di avere sempre una punta nuova quando la cartuccia si esaurisce la grand prix ha una storia abbastanza lunga perché veniva già prodotta nella seconda metà degli anni 80 e soprattutto ha avuto parecchio successo negli anni 90 però aveva una forma diciamo differente io la utilizzavo quando frequentavo le medie e appunto mi ha aiutato a scrivere in maniera più corretta perché avevo un'impostazione della mano sbagliata e infatti non riuscivo all'inizio a far scrivere bene la penna poi quando mi sono corretto nell'impostazione della mano allora la penna ha iniziato a scrivere quindi quello che ci viene fornito è questo fusto dove appunto vengono messe queste due cartucce contrapposte e questo va a completare la penna e vediamo che qui c'è questo piccolo cappuccetto che va a proteggere l'inchiostro e la punta in modo che non si secchi quindi cinque cartucce con inchiostro blu perché il nero mi sembra non sia cancellabile il super pirate che è gratis che è gratuito e poi appunto il fusto della penna che va a completarsi con le due cartucce da inserire quindi adesso ne rimangono tre due sono qui all'interno e l'altra è qui e l'altra è qui ancora all'interno del del fusto ancora inutilizzata che fa da sostegno per la per la cartuccia principale passiamo alla prova di scrittura eccoci qua allora stiamo utilizzando un quaderno one color della blasetti anche questo di produzione italiana al contrario della penna che abbiamo detto che è di produzione tedesca made in germany e vediamo come scrive questa penna allora è una penna praticamente una versione più come dicevo antica una prima versione della delle attuali penne roller però ricaricabile con queste cartucce con la punta incorporata il colore dell'azzurro è abbastanza intenso ma è una via di mezzo diciamo tra una pena d'inchiostro liquido come può essere per esempio la la pilot v pen oppure una penna biro classica comunque l'inchiostro sembra essere un inchiostro roller un inchiostro liquido penna sferografica pelican grand prix royal blue ink prova di cancellatura con pelican super pirate infatti se vedete adesso vediamo se riusciamo a mettere a fuoco più da vicino vediamo ecco qua vedete che si intravede la scritta attura di cancellatura perché ovviamente l'inchiostro del super pirate quello che ha la punta e rende trasparente l'inchiostro della penna sferografica non cancella proprio completamente l'inchiostro blu ma lo rende trasparente pelican super pirate questo è un metodo di cancellatura si può dire di seconda generazione dopo le penne replay della paper mate vedete che il tratto è un tratto medio la penna è abbastanza scorrevole però si fa sentire sul foglio questa è una cosa che a me piace sinceramente perché penne troppo scorrevole non fanno per me io sono comunque amante più delle penne a sfera ad inchiostro a base oleosa questa invece è una tecnologia differente qui vedete una correzione perché avevo sbagliato a scrivere la parola pirate e vedete che dove c'è l'inchiostro un po più scuro è stato scritto con la parte della penna blu del super pirate in maniera indelebile quando è scritta una volta sopra alla parte cancellata non è più possibile cancellare l'inchiostro bene scusate la vibrazione della mano qui abbiamo scritto sulla copertina del del quaderno one color della blasetti e vedete che il tratto è un po più spesso rispetto a quando si scrive con la penna sul foglio sul foglio che è sempre praticamente parte della quarta di copertina del quaderno e vedete che il tratto è un po più fino e anche l'inchiostro sembra un po più scuro rispetto alla scrittura sul 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 cartoncino bene questa era la prova di scrittura e ora passiamo a parlare del posto dove l'ho comprata e anche a quanto mi è costata e dove anche voi potete trovarla allora ho trovato questo blister che contiene questi tre prodotti quindi le cartucce cinque cartucce la penna sferografica e il correttore da conad spazio conad in via venezia 61 a padova è un supermercato collegato al centro commerciale giotto e nel reparto nella corsia proprio vera e della cancelleria questa penna viene proposta a 9 euro e 90 non è poco però tenete presente che avete delle come se aveste a disposizione cinque penne cinque cartucce quindi cinque ricariche quindi un bel periodo perché mi ricordo che quando la utilizzava le medie le cartucce duravano parecchio e ovviamente a scuola si scrive parecchio e poi gratuitamente avete in omaggio anche il super pirate che è il correttore per cancellare appunto il l'inchiostro della penna sferografica grand prix di pelican 9 90 è il prezzo come vi ho detto c'era anche la versione pelican twist che è un'altra versione con un'impugnatura è una forma che si avvita su se stessa ed è più come si può dire più facile da impugnare più ergonomica e quella veniva invece 10 euro e 50 comunque questa la potete trovare la grand prix non con la possibilità di scegliere il colore ma viene spedito un colore casuale sul sito amazon però a 14 euro e 09 e se non siete abbonati ad amazon prime dovete aggiungere 4 euro di spese di spedizione quindi se avete la possibilità di trovarla in un supermercato se c'è un reparto di cartoleria abbastanza fornito vi suggerisco di comprarla appunto in un negozio fisico comunque il prezzo si aggira intorno ai 10 euro bene io spero di aver fatto un video interessante forse mi sono dilungato un po' troppo spero che vi sia stato di aiuto nel caso voleste acquistare una penna sferografica che è una via di mezzo tra una penna sfera ad inchiostro a base oleosa e una penna stilografica dall'inchiostro liquido o anche una penna roller perché questa abbiamo detto che è una primitiva versione delle penne roller che si sono evoluti nel corso degli anni nel corso degli ultimi decenni e niente se volete fare magari anche un piccolo regalo al vostro bambino che magari ha problemi di impugnatura di disgrafia questa è una penna che può essere molto d'aiuto nell'apprendimento della presa in mano della penna e quindi dell'impugnatura corretta per scrivere in maniera meno stancante per la mano e anche in maniera più scorrevole fluida quando appunto magari ci sono i dettati a scuola io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ad attivare la campanellina che vi permette di avere la notifica quando io vado a caricare un nuovo video di prodotti di cancelleria perché ormai mi sono specializzato su questo tema vi invito a lasciare un commento se avete delle domande riguardo a questo prodotto e di condividere questo video se anche voi siete appassionati di cancelleria come me io vi saluto col cane che in giardino abbaia e vi auguro un buon proseguimento e ci si vede al prossimo video ciao a tutti alla prossima